apriamo le danze signori si comincia questo seminario congiunto di bianco prende e poi c'è io e che io c'è mandi buona os e un'esercito e un'esercito di tascuni che sabirà ai 12 mentre salgo prendo potenza giancio poi se metti i paudi qua parto con testo l'inglese giapponese lo squilibro sempre la mano che guarda in alto la mano guarda in alto la seconda cosa vedete qui a questo punto ferro colpisco colpisco capocciata quello che volete quando mi attaccano entrare di botta sul corpo però non l'ho fatto più da ora mi penso qua scendo